Allora ragazzi, due cose, un video abbastanza impegnato perché parliamo di due argomenti un po' particolari Uno è il volantino dei rifositi della Lazio, mi è arrivata una risposta da probabilmente un appartenente alla Curva Nord Credo che ve la posterò qua sotto Diciamo che la risposta è la risposta che è stata pubblicata dalla Curva Nord E diciamo, conferma quello che avevo detto io Quindi non credo che ci sia necessario di aggiungere altro E comunque la conferma al fatto che quel volantino che è stato fatto dalla Curva Nord Secondo me non aveva significato proprio perché parliamo Io avevo detto, potevi dare nel volantino delle istruzioni organizzative e comportamentali Sicuramente non fare una divisione di genere in un ambiente, quello della Curva Comunque sia si parla del supporto del tifo che non necessita di una distinzione tra uomo e donna Mentre è chiaro che in altri ambiti della vita, in altri tipi di lavori pesanti, per esempio, la distinzione esiste Il ragazzo mi parlava di ultrafemminismo Io sono d'accordo nell'ultrafemminismo della nostra epoca Però in quel caso sinceramente stiamo parlando di tifo, quindi non ha senso Quindi vi lascio sotto questo video Insomma ritengo doveroso mettervi la risposta della Curva Nord Che secondo me continua a non avere senso Però lascia a voi giudizi Parliamo poi di un altro argomento che mi aveva toccato da vicino Perché avevo fatto un video che aveva ricevuto molte visualizzazioni Ed era arrivato a molte persone, anche che conosco io, che stavano lì a Liverpool E conosco di persona, bravissimi ragazzi Che si sono trovati in situazioni spiacevoli lì a Liverpool Da racconti che mi hanno dato tutte le situazioni in cui loro si muovevano in gruppo Si muovevano con la sciarpa della Roma, con la maglietta della Roma Io avevo raccontato la mia testimonianza Si può dire, raccontato la testimonianza Mi avevo riportato la mia testimonianza Ve la linko qua sopra nelle schede Insomma avevo detto che io ero stato a veramente ragazzi Non scherzo a 3, 5, 10 metri dall'ingresso del settore ospiti Mi era passato il pullman di Liverpool sotto Il gruppone dei tifosi di Liverpool con i fumogeni sotto il naso Io stavo in mezzo all'ora a fare video E nessuno, nessuno, nessuno si è azzardato a dirmi niente O anche a guardarmi male Ho bevuto birre lì fuori Veramente una bella atmosfera E quando ci sono stati i disordini sono rimasto sorpreso Poi parlano anche con degli amici Ho avuto dei feedback successivamente Mi hanno raccontato insomma che anche loro muovendosi in gruppo Sono stati infastiditi All'uscita la polizia gli ha fatto fare dei percorsi obbligatori Obbligati lì fuori lo stadio Che passavano sotto fabbri tipo si è Liverpool un po' altici Io quella esperienza non l'ho vissuta Però io veramente so di persone del mio gruppo che sono andate poi in pub al centro Dopo la partita nessuno gli ha dato fastidio Perché si muovevano in coppia in 3-4 ragazzi tranquilli Ovviamente non con la sciarpa della Roma o la maglietta della Roma E sono andati lì tranquillamente a vivere una serata in un pub di Liverpool Quindi si poteva fare, il mio messaggio era quello lì, si può fare Poi per carità puoi essere aggredito, ti possono prendere di sorpresa Puoi trovare lo scemo, ma lo scemo lo puoi trovare ovunque La cosa che secondo me non si deve fare è cercare di predisporti a queste situazioni Perché non hai magari la colpa, non è la colpa tua Però tu non ti predisporre ad uno scontro con atteggiamenti aggressivi Non andare in grupponi facendo corri della Roma Perché lo sai che lo scemo lo puoi trovare, no? Questo era il messaggio del mio video Oggi ci troviamo qui a commentare una sentenza Che secondo me è dal punto di vista di un cittadino italiano E sicuramente sta girando Perché questo riposo della Roma è stato condannato Per aver tirato su una cinta Per evitare se si è tolto una cinta davanti a un bar In mezzo ad altri tifosi, altri a volto coperto Non li hanno identificati Lui ha ripreso da dette e camere Non c'entra niente con l'aggressione a Sean Cox Per quanto si era poi, credo, diffusa proprio su di lui La notizia è che fosse uno di quelli che ha aggredito a Sean Cox Ma non è assolutamente vero La questione di Sean Cox è rimasta così Non si è capito chi è stato, chi non è stato Tutti questi famigirati video che dovevano girare Non hanno mai portato ad un chiarimento delle indagini E lì le indagini sono abbastanza rapide Non sono come in Italia che vanno avanti per 15 anni E poi ti prescrivono Lì le indagini le fanno in 2, 3, 4, 5 mesi E poi si va a processo Quindi non so come andrà a finire la storia di Sean Cox E nel mio video, se vi ricordate L'avevo intitolato La follia e le bugie del UEFA Non mi ricordo bene proprio perché L'UEFA aveva stigmatizzato questi fatti Come legati effettivamente ad una partita di calcio Ma in realtà sì, sono legati a degli scemi che stanno fuori Che sono mal controllati dalla polizia locale Questo doveva essere il discorso fatto del UEFA Ma ovviamente non è stato fatto Ed è stato strumentalizzato per porlo sulla questione di tifosi Abbiamo visto che poi la sentenza dal lato Diciamo colpa per la Roma è stata una sentenza ridicola Con una credo addirittura hanno ridotto adesso la pena Trasferta vietata o qualcosa di simile Non ho neanche visto ma era comunque una sentenza ridicola Era uscita quest'estate quando era in vacanza in Puglia Per quanto riguarda questo ragazzo è stato condannato a due anni e mezzo È uno dei reati che era stato introdotto dalla Thatcher Proprio per la questione di disordini per i tifosi Quindi lui ha pagato questo reato abbastanza severo Cioè questa pena severa ragazzi Perché è una pena severa Cioè due anni e mezzo ragazzi non sono Cioè due anni e mezzo per aver probabilmente neanche dato un colpo a nessuno Ma semplicemente deve essersi tirare fuori con un atteggiamento minaccioso La cinta fuori da un pub Bisogna stare attenti perché quando si va in altri paesi Ragazzi ci sono delle norme che non si conoscono E io non conosco il diritto penale inglese Però io cerco di stare a ragga da qualsiasi reato Perché lì la polizia ragazzi Non hanno dei concetti etici diversi dai popoli del sud Europa un po' latini Cioè se ti fermano qui con una cinta fuori da un pub Che fai disordini Magari i carabinieri li portano in quest'ora La sera esci Lì ti danno due anni e mezzo Perché hanno dei principi etici diversi Cioè se tu fai lo scemo fuori da un pub Non importa che sei abituato a farlo anche per scherzo Tu stai infrangendo la legge E paghi secondo la legge che stai infrangendo E non sono... Cioè non è che ti dicono Dai va bene su Era una cogliardata Ti danno due anni e mezzo Cioè due anni e mezzo è veramente la pena severa ragazzi Cioè due anni e mezzo sono tantissime Sto ragazzo non posso immaginare che cosa stia passando Magari per ingenuità si è trovato in mezzo a sto gruppo Le persone che hanno tirato fuori tutte quante Oh namo famo E magari lui era quello che manco voleva fare niente Quindi per quello io dico Cioè levatevi dai gruppi In gruppone Voi mi dite Ah no ma io devo stare con amici miei in gruppo Organizzare ragazzi Cioè andate tranquilli Le trasferte si possono fare tranquille Io l'ho fatta tranquillo ragazzi Si può fare C'è un modo C'è un modo ragazzi Poi se becchi lo scemo Ci può sempre stare ragazzi Cioè lo scemo Lo scemo lo puoi trovare ovunque Ma anche se va in giro a Roma Lo puoi trovare lo scemo Quindi mi dispiace purtroppo questo ragazzo Credo ce n'era anche un altro A giudizio Ma non leggo niente in quest'articolo di Sky Sport Quindi non so Non so come sia andata per l'altro ragazzo Però sicuramente se fate una ricerca all'anno Lo trovate Volevo semplicemente Dare un mio giudizio sulla questione E chiudere la faccenda qui Niente ragazzi Ciao Tatti e ciao a tutti quanti Ciao Tatti e ciao